Buongiorno a tutti, il video di oggi è dedicato al numero attualmente in edicola di Salute Naturale Extra che tratta il tema della dieta e titola La dieta salva vita che ti ringiovanisce in sette giorni. Pensate che agli inizi del Novecento un famoso medico inglese ebbe un'intuizione e affermò che a suo avviso nel secolo a venire i medici avrebbero progressivamente smesso di curare persone somministrando loro dei farmaci ma dando delle indicazioni relative a come alimentarsi correttamente. Grande intuizione che non si è avverata ma che in questi ultimi tempi ha trovato via via una conferma importante in tantissimi studi ovvero tantissimi studi sostengono l'importanza sempre maggiore dell'alimentazione all'interno del nostro stile di vita. In particolare uno è uno studio svedese negli ultimi 30-40 anni si è sviluppato su un numero enorme di persone più di 60.000 sono stati i soggetti studiati fra i 40-43 e gli 85 anni ebbene questo studio svedese che appunto su queste persone studiate ha applicato una scrupolosa dieta antinfiammatoria ha riscontrato che una dieta siffatta riduce quasi del 20% del 18% la mortalità prematura. Che cosa intendiamo per dieta antinfiammatoria? Una dieta che rispetti dei criteri fondamentali che sono legati all'indice glicemico e altri aspetti importanti elimina dei cibi cosiddetti pericolosi o killer ma fondamentalmente la dieta antinfiammatoria è una dieta che prende atto di una realtà all'interno della quale noi viviamo ovvero che il tipo di cibi di cui ci nutriamo spesso in genera un pericoloso circolo vizioso ovvero stimola il nostro sistema immunitario a produrre delle difese nei confronti di organismi di microorganismi che vengono considerati dannosi. Tutto questo accende una fisiologica normale risposta infiammatoria ma che continuamente stimolata rimane praticamente una sorta di infiammazione protratta tale per cui i tessuti rimangono in uno stato di vulnerabilità maggiore. ecco la base su cui poi patologie delicate e impegnative come patologie cardiache, vascolari rischiano di tradursi in infarti, ictus e forme tumorali. Tutto questo ormai è abbastanza acclarato e quindi diventa importantissimo prendere coscienza di quanto una dieta corretta, un'alimentazione corretta, soprattutto un'alimentazione che faccia attenzione agli aspetti infiammanti dei cibi sia auspicabile. Allora all'interno di questo numero avrete tutte le indicazioni in merito e in particolare c'è un occhio di attenzione ai confronti di una dieta capace di rigenerare i tessuti e quindi di favorire un processo di ringiovamento, una cosiddetta dieta anti-age. Ma non è solo questo il nostro obiettivo, ci sono tutte le indicazioni per chi necessita di stimolare maggiormente il sistema immunitario, ad esempio per aumentare le difese nel momento in cui durante l'inverno incorriamo più facilmente in patologie dell'affrodamento e quant'altro. C'è una dieta che è orientata a chi necessita di avere maggiori energie perché è ad esempio un'attività sportiva abituale, per chi necessita di rinforzare le ossa piuttosto che altri apparati, insomma diete mirate ma sempre centrate attorno al tema del processo antinfiammatorio. Bene, ci vediamo in un prossimo video e arrivederci a tutti. Grazie. Grazie.